Che vuol dire che ci hanno vuotato il conto? Lui mi ha rubato tutto. Io sono stato in questa casa con questo Marcello per una innocente carbonara. Sei licenziata. Ma io l'ho trovato. Ma chi è andato in banca? Un vigile. Ma come non lo conoscete? Dove lo trovo questo padre Marcello? Come fa di cognome? So solo che ama i loro. Loro chi? Quando qualcuno gli è tedesco di loro, la gente cosa risponde? Loro chi? Loro i ladri. Chi altro ti manca per scrivere la vendita? Un martello. Insomma, che cosa vuoi da me? Ti risarisco. Dove vai tu? Vengo io. Ma perché? Non ti fidi? No. Che banda? No, siamo una famiglia. Come tutte le famiglie, cerchiamo di arrivare a fine mese. Pisello, come si chiama la suite? Eh? Il dottor Pisello. Diciamo che sono un compositore nella realtà. In alto! In alto! Che cazzo fai da solo? Ma adesso vai in alto, sempre più in alto, sali, sali e qua sto. Ridi? Adesso piani. Sul tram? Godi? Ma dai che scordi. Sogniamo di vivere proprio così. Io non voglio esagirla, guarda solo. Anche se ho un colpo da 2 milioni di euro. Guarda che io imparo in fretta. Il mio cane ha trovato un piede. Non certo che ho mano, c'è la scarpa attacchiata. Composizione. 3, 2, 1. Più. E' la magia dell'arte. Spargi gioia e prendi grana. I loro! Voi conoscete i loro? Il truffato deve supplicare per avere la sua truffa perché io realizzo i suoi sogni. Lei deve aiutare la giustizia. Lei deve aiutare la giusta per avere la sua truffa perché io realizzo i suoi sogni.